Allora ragazzi, oggi facciamo la scena del delitto, abbiamo un poliziotto, surfista e sciupa femmine e quello depresso è psicopatico. Ah, sei pure psicopatico? Ambecille, il relitto umano sei tu. Ma perché lo facciamo sempre io? Quindi scusi, io faccio quello figo? No, quello figo lo fa il pistolone, tu fai il marito da bionda. E vuoi che glielo faccio intrigante, romantico, un po' accattivante? No, lo fai morto. Tra l'altro è già nella parte del morto lui. In che senso? E puzza, mi senti come te. Fanno i cadavere, fanno i cadavere. Inoltre, oggi non l'abbiamo badato a spesa, abbiamo chiamato la migliore attrice che c'è sul mercato. Purtroppo ci aveva da fa' e ci hanno mandato questa. Procediamo. Tenta, vuole che il mio personaggio lo affronto più di petto o con dei mezzi Tony? Tony! Il peccato è tutto bene. Tony! Tony, allora pronti a giracocca? Allora tu entri nell'ufficio di tuo marito con i due bolliziotti e il marito invece se straia qua. Forza! Straia de! Salve a tutti. E tu chi sei? So Juanito. E' il figlio segreto del Don Matteo. L'assassino e il maggiordomo. Sì, ma questo non è Don Matteo. Mi pareva strano, è pieno di tossici. Ma va a famberta, va per cortesia. Ma famberta che l'ha... Ma oggi, ma vedi, ma mi vuole torturare oggi. Ma state tutto petto. Allora, questa scena deve venire bene. Scusi però, a ripensarci, io sono un grande attore, cioè io non posso fare il morto. Cocca, allora tu entri, ti incinocchi, prendi la testa... Io non faccio il morto. E la stringi in mezzo al zinnetto. Io faccio il morto, chiaro? Bravo! Vabbè, non pensate che... Ci crede, tutto petto, ci crede, tutto petto. Allora, pronti a girare? Facci il morto, pensate. Ma, motore! Che non sta sento, facci il morto. Attenzito! No, scusate, io non voglio... Gira delle scene con dei cadaveri, sono vegana. Perdonami, Francesca, perdonami, ma che cazzo c'entra? Facci il morto, facci il morto. Io sono contro la morte di esseri animali. Ti capisco, allora facciamo così. Tuo marito è un cavolfiore, ti è morto il cavolfiore, va bene? Ah, ok, così ci sto, allora. Sempre decomposto il cavolfiore. Scusate, però, perché non mi riuscite a debbattuto il copione? Non basta mai il cavolfiore. Salve a tutti. Ma scelta il cavolfiore. Sento! Fammi farmi un morto. E tu che vuoi? Sono guanito, è il figlio segreto. E il cavolfiore non è morto. Ma lo so fumato io. Oddio! Pausa! Quattro stanzioni di pausa, Luisella! Uncilla, mi piccino, pausa! Uncilla, mi piccino, pausa!